Gli integratori alimentari di qualità costano assai, ma anche se concorrono alla buona riuscita delle terapie anti-cancro, con le regole attuali non solo non vengono rimborsati, ma non possono neanche essere scaricati dalle tasse. La chemioterapia stessa costa. Il drenaggio che io ho in borsa ha un costo. Ci mancherebbe, cioè questo è riconosciuto comunque io credo da ogni paziente. Perché non possiamo avere questa opportunità in più? Io ho speso un bel po'.